Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. L'Abruzzo resta bicolore anche per la prossima settimana. Ufficialmente l'arancione sarebbe il colore della regione, grazie anche a un R con T pari a 1,17. Più basso di sette giorni fa, ma comunque sempre ben al di sopra di 1. Restano rosse invece le province di Pescara e Chieti, che con i loro numeri avevano fatto temere che la situazione potesse diventare rossa per tutti. Il Terramano e l'Aquilano hanno tenuto e questo è già un segnale, nonostante le variabili delle varianti che hanno condizionato queste giornate. La conferma arriva anche dai dati di oggi, dove i nuovi positivi sono 494 su un totale di 7.209 test complessivi. Si, alta la percentuale di contagiosità, che presa per il valore totale è pari al 6,8%, uno dei più alti delle ultime settimane. Ma se si considera solo il dato dei tamponi molecolari, che oggi sono 4844, fa una percentuale pari al 10,2%. Insomma, si viaggia sempre al limite. A fare rumore è sempre più il dato dei contagi riferiti alla provincia di Pescara, che oggi sono 271, quasi il 55% del totale. Più della metà dei nuovi contagiati sono del pescarese. Tutte le altre sono sotto quota 100 e quasi sulla stessa linea alle altre tre province. L'altro dato che preoccupa, oltre ai 9 decessi, di cui 5 però sono riferiti ai giorni scorsi, è quello riferito ai ricoveri nelle terapie intensive. Oggi i nuovi sono 5 e il saldo dei letti occupati vede un più 3, che fa salire il numero dei ricoverati a 73. Insomma, ci si avvicina sempre più al 40% dei posti disponibili, mentre diminuiscono di pochi, 6 unità, i letti occupati nelle terapie non intensive, che sono 546. Verrebbe a conti fatti da dare ragione piena al professor Giustino Parruti, primario di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, che invoca per la sua città il lockdown. Fatto sta che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche la prossima settimana. Una buona notizia c'è e riguarda il numero dei guariti, che oggi sono 416 in più e non sono pochi. Sono confermati i dati da zona arancione, quindi mi attendo che la cabina di regia lo ratifichi in questa giornata. Quindi non cambia nulla, noi continueremo a mantenere la zona rossa per le province di Pescara, a continuare a fare uno stretto monitoraggio su tutto il territorio. Grazie. 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 Grazie.